Le indiscrezioni sul piano regionale di riassetto dei servizi sanitari riaccendono le polemiche sui tagli previsti al comparto, uno tsunami che potrebbe rivoluzionare il sistema sanitario ed imporre chiusure o pesanti ridimensionamenti ai 24 ospedali pubblici e agli 11 nosocomi privati abruzzesi, oltre alla razionalizzazione dei pronto soccorso e ad un consistente taglio del numero delle specialità e dei reparti doppione. L'idea di come la regione Abruzzo procederà al riordino della rete ospedaliera spaventa il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che definisce inaccettabile l'ipotesi che venga penalizzato il solo territorio teramano. A rischio infatti ci sono sia la cosiddetta governance della sanità locale, con il possibile accorpamento delle ASL, sia i reparti ospedalieri d'eccellenza, uno su tutti, neurochirurgia al Mazzini. Per questo il primo cittadino ha convocato un consiglio straordinario sulla sanità previsto per il 2 ottobre. Alla seduta dell'assise civica parteciperanno il governatore Luciano D'Alfonso e l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Fra il 2015 e il 2013 i tagli alla sanità, Teramana, a tutta la sanità ma e quindi anche a quella Teramana, sono importanti. Si parla di diversi milioni di euro a fronte di una spesa sanitaria che cresce, soprattutto per i farmaci, per i farmaci oncologici, per i farmaci dell'epatite C. Saremo in grado ancora di garantire sanità al nostro territorio, stando il fatto che si riducono i trasferimenti e aumentano i costi. E poi ci sono altri temi, i secondi livelli. Si parla già del fatto che la neurochirurgia la prende l'Aquila a scapito di Teramo, ma questo non può essere. Si parla già di taglia alle chirurgie. Teramo ha 5 chirurgie, l'Aquila cena 9. Se Teramo deve perdere qualche chirurgia, l'Aquila che fa? L'Aquila ma piuttosto pescara, piuttosto che chieti, considerando che Teramo non ha una sanità privata, il personale. Qui ci sono carenze importanti di personale.